È veramente molto emozionato Andrea Cincianini che si è lasciato andare ad un lungo abbraccio con Mario Fioretti che tra l'altro con cui condividi anche il nazionale, tanto tempo in estate e mi ha subito le tue sensazioni, poi passiamo magari a qualcosa di più tecnico Prima di tutto ho ringraziato Mario Fioretti perché è con lui che passo più di tutto il tempo a migliorare il tiro e oggi con due canlessi di lì sono merito suo ed è la mia persona alta nel lavoro, io ci credo tantissimo Oggi la volevo con tutta me stessa la Coppa, la mia scuola ci ha rubato uno scoglietto per me Ho perso la Supercoppa quest'anno, questa Coppa non la volevo perdere per niente al mondo Abbiamo preso il primo trofeo del 2016 perché la Supercoppa l'abbiamo persa Adesso dobbiamo continuare così, Avelino è veramente una grande squadra, complimenti a Pino, complimenti a tutti loro Però per tutti questi tifosi, per il signore Armani, per la società ma soprattutto per noi stessi Perché veramente siamo usciti dalla Lega subito